Poi oggi è ancora più difficile perché il primo approccio con le donne spesso è tramite i social, no? Quindi è difficile capire davvero chi si ha dall'altra parte dello schermo, no? Perché tutti belli, tutti in forma, tutti a nasconde, la panza, che voglio dire? Mo vi racconto questo un attimo. Mi sono scritto per un mesetto in chat con una ragazza, niente di che, ma molto spigliata, insomma. Alla fine era un video per un caffè e quando arriva, non aveva idea, era una super figa. Ma di quelle che brillano proprio. Cioè, ma io dico, mi impegno per settimane per trovarne una bruttina con pochi like, così posso essere più stronzo e arrogante, e invece niente. Becco quella che è una pippa a fasse le foto, ma guarda che assurdo. Perché a quel punto il panico, ero convinto che in testa sua fossi io la cicciona infame, vabbè. Non vi dico com'è andata a finire, non vi dico com'è andata a finire. Vabbè, che avevo scopato e non gli è piaciuto, era pure facile. Invece ci sono certe donne che mostrano anche troppo del proprio corpo sui social, e per la gioia di tutti, tra l'altro. Io ne seguo tantissime di queste, non capisco perché lo fanno o per chi lo fanno, infatti le chiamo fregni e freelance. Con ste citazioni poetiche, random, profonde, sotto le pose sexy. Non so se pensano davvero che uno scorrendo la bacheca le vede là, col culo su lavandino. Una quarta, due occhi da pompinare e pensa, ah vedi, sto libro l'ho letto pure io. Cioè non succede, non succede. Cioè ogni like è un modo elegante per dirti, ti potrebbe interessare il mio pene? Seguiranno in allegato foto del suddetto. Lo fanno, i maschi lo fanno. Potrei chiedere conferma in sala, ma non lo farò, perché lo so che lo fanno. Io lo faccio. Comunque, se ci pensate fino a qualche anno fa era una pratica impensabile, no? O se voli farlo, dovevi farlo per posta. Cioè c'era tutta un'altra valenza. Innanzitutto dovevi comprare busto e francobollo. Scattate una foto e avete una polaroid, perché non è che puoi portare a sviluppare le foto del cazzo. Poi dovevi conoscere la via del destinatario, cioè della sconosciuta, in pratica eri un maniaco. Cioè non lo raccontavi agli amici, ti avrebbero schifato. Poi dovevi imbustare e spedì uscendo da casa. Cioè che non c'è cosa più vintage, uscì da casa. Ma che è il 2008, uscì da casa. Insomma, dovevi forti motivazioni per arrivare alla fine di tutto sto processo, no? Adesso basta il cellulare carico e il cazzo dritto. Perché il cazzo va mandato dritto, eh ragazzi? Non sbagliamo. Pisello Moscio è tipo una donna struccata. Cioè la foto va mandata al massimo, no? Della propria forma, come per dire guardalo, è pratico, è stendibile, arriva anche negli angoli più scomodi. Cioè deve essere una bella pubblicità, una bella pubblicità. Sì. 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 Sì.